Ciao, sono Lisa Sommella di Makeup Express a Lugano. Nel mio studio puoi trovare numerosi servizi per la bellezza della sposa e oggi parleremo proprio di questo. Le tendenze per la sposa quest'anno vedranno una sposa protagonista con il nude look, un look molto naturale che esalta la loro bellezza e allo stesso tempo le valorizza. I colori che andranno per la maggiore per il trucco degli occhi saranno tonalità a terra con abbinati dei punti luce e un rossetto nelle tonalità nude e leggermente rosate o color pesca a dipendenza della tipologia appunto della sposa. I servizi per la sposa includono numerosi aspetti, vale a dire il trucco e l'acconciatura, i servizi per le unghie con mani e piedi e i servizi per le ciglia e sopracciglia. In questo modo la sposa potrà valorizzare tutti gli aspetti del suo look. Ci sono inoltre i corsi di make up dove potrete apprendere a valorizzare la vostra immagine sia con un corso individuale sia con corsi di gruppo. Durante il corso si capiranno innanzitutto quali sono i colori che stanno meglio e in base a quello si svilupperà il trucco più adatto a voi sia per il giorno che per la sera. Vi ricordo le pagine dove potete seguirmi su Facebook e Instagram come Makeup Express di Lisa Sommella e sul sito www.lisasommella.com Un saluto a tutti i lettori!